Il potere di attenzione delle famiglie italiane nell'ultima rilevazione è di peso nel 4%. La protezione all'estate degli italiani è molto caratterizzata nel tempo nel mondo perché gli italiani sono stati risparmiatori è scelta all'8%, ai minimi dell'indicato del 99%. La banca d'Italia stima che il potere di attenzione delle famiglie italiane si rimorra fino al 14%. Quindi le previsioni sono, direi, molto migliori, l'inflazione è al 100% e i consumi invece di maggiore frequenza sono al 4-7%, l'energia e la benzina è al 20%, questo è il 4% generale. Però, un attimo tutto l'attività, questa mattina l'Istas ha riconosciuto il caso di un migliore altro.